Tantorella, alla fine del dibattito di ieri che verteva sulle problematiche che interessano la contrada di Manfria, cosa è emerso? Noi da tanto tempo chiediamo che ci sia il completamento dell'acqua e il completamento per quanto riguarda, che ancora non esiste, per quanto riguarda la Fogna. Anche perché oggi è l'unica zona che possiamo dare lo sviluppo alla città di Gela. Anche perché dai fatti che si sono accaduti e che l'industria non esiste più e quindi noi dobbiamo cercare ai giovani che possono anche crearsi dei piccoli imprenditori e di dare lavoro alla città di Gela. E voi è chiaro che chiederete un contributo fattivo da parte dell'amministrazione comunale? Noi non è che il contributo fattivo deve essere perché abbiamo dimostrato diverse volte che il contributo nostro da parte del coordinamento dei comitati c'è stato sempre perché ci siamo messi subito in opera quando allora mancavano le autorizzazioni per quanto riguarda i terreni che ancora non erano stati ceduti al Comune. Anche perché sta arrivando la stagione balneare dunque Manfria dovrebbe presentarsi in pulita? Certamente, a giorni io cercherò di avere una riunione col sindaco, con i vari assessori per dirci che devono iniziare come l'anno scorso, devono iniziare subito la pulizia delle spiagge e cercare ancora che ci sono delle passarelle che mancano e quindi per dare la possibilità alla gente e anche ai disabili di poter transitare e arrivare fino alla battigia del mare. Vi rincontrerete con l'amministrazione comunale? Io cercherò di incontrarmi anche perché dal momento in cui ho chiesto sempre qualche riunione non mi hanno mai detto di no ma ci siamo sempre incontrate quindi diciamo che questa collaborazione c'è e anche se certe volte mi lamento però c'è.